Aria Gal, nuovamente sotto il riflettore. Dopo la pubblicazione di una foto in cui si vedono dei bambini camminare sopra i tetti delle casette, l'opposizione ha presentato una nuova mozione. Ce l'è illustra la consigliera Adavasta. Dal nostro ultimo interrogazione la situazione non è cambiata, anzi è peggiorata. Abbiamo visto che c'è stato un insediamento di nobani all'interno delle strutture, che i bambini addirittura giocano pericolosamente sui tetti di queste casette. Quindi abbiamo sentito il dovere di impegnare tutto il Consiglio Comunale affinché solleci l'amministrazione definitivamente a risolvere il problema. Noi riteniamo che questa situazione non può più andare avanti così com'è e riteniamo che ci sia una responsabilità da parte dell'amministrazione. Chiediamo due cose, la messa in sicurezza prima di tutto e poi l'utilizzo dell'aria per lo scopo per cui è nata. Le risorse per mettere in sicurezza quest'area? Noi siamo convinti che questa sia la fase più opportuna dell'anno amministrativo perché siamo in fase di chiusura di bilancio. Sappiamo da indiscrezioni che l'amministrazione voterà il bilancio in giunta nei prossimi giorni, quindi riteniamo che sia il momento più opportuno affinché il sindaco stanzi le somme necessarie all'interno del bilancio per risolvere, ripeto, definitivamente il problema. Grazie a tutti! Grazie a tutti!